Anna, Anna, ciao amore, ciao, noi siamo arrivati, qui è tutto bellissimo, ti piacerebbe tantissimo, abbiamo mangiato benissimo, state con noi, stai andando a basket, no scusa non l'avevo vista la borsa, dov'è adesso, a basket, ma è sempre a basket, ma cosa fai lì sul divano, fighetta, guarda papà com'è attivo, adesso va al tennis, va al tennis, va a venire, ma l'abbiamo lasciato fuori il termometro, Faccio brutto, stiale, ma sta storia del video? Ma perché l'hai fatto? Quali video dai, il video porco, quello che ti ha inviato Anna, lo sanno tutti, guarda che l'ho fatto anch'io, cosa credi, non mica sei la prima, certo non ho fatto un video io, Faccio brutto, faccio brutto, faccio brutto, vieni, vieni!